Ciao, amici, amanti della monnezza e non, bentornati su cose dell'altro cinema. Anche questa settimana abbiamo fatto una votazione democratica. I film in lizza per questo video erano 1BR e Revenge. E il combattimento c'è stato, eh? Fino all'ultimo sangue, 50 e 50, 51 a 49, fino alla fine. Poi per pochissimi voti ha vinto Revenge. Però, sono stato anche tentato di parlare di entrambi i film nello stesso video per rendere giustizia a questo scontro tra titani, quasi sempre, no? Sul 50 e 50. Poi alla fine ho detto, vabbè, ho fatto io le regole, rispettiamole, parliamo del vincitore. Cioè di Revenge. La settimana scorsa, siccome in lizza tra i due film c'era uno dichiaratamente de merda, l'85% dei voti è andato lì. Perché, insomma, siete il pubblico di questo qui. Non potevo aspettarmi meno da voi. Bravi, non mi avete deluso. A sto giro, invece, vi ho messi davanti a due film, comunque sia dignitosi. E il voto, in effetti, lo ha dimostrato. Uno spaccamento proprio perfetto, quasi. Vabbè, vince Revenge. Parliamo di Revenge. Revenge di una regista francese, della quale adesso storpierò senza alcuna pietà il nome. Coralie Farjat. L'ho buttata lì. Credo sia sbagliata la pronuncia, comunque. Regista francese. Come il protagonista, Matilda Lutz, l'abbiamo vista anche in A Classic Horror Story. Anche lì ricopriva un ruolo importante. Qui è la protagonista proprio. E c'è da dire una cosa. Non è proprio un horror vero. Però, secondo me, ha tanto di splatter, ha tanto di soprannaturale. Secondo me ci siamo, dai. È un Revenge movie. Ora, quasi tutti i film che adottano questo tema tendono a essere simili. Ma perché? Perché la struttura della vendetta è sempre la medesima. Cioè, che succede in un Revenge movie? Cosa vuoi che succeda? C'è un'ingiustizia, all'inizio, e qualcuno tenta, nel corso del film, di fare giustizia. Appunto. Anzi, credo che il Revenge movie vero non sia tanto alla ricerca della giustizia. Quanto della soddisfazione. Quante volte nella vita avete subito un'ingiustizia e anche se poi è stata fatta giustizia non vi siete sentiti meglio? Non vi siete sentiti soddisfatti? A me è capitato. Mi è capitato diverse volte di essere nel giusto, subire un torto, e poi quando la giustizia è arrivata nessun sollievo. Ho continuato a stare male. Ho continuato a sentire ingiustizia nell'aria. Questo perché giustizia e soddisfazione sono due cose molto diverse, non a caso. In tempi passati, prima di un duello, non è che si chiedeva giustizia. Voglio soddisfazione. Ok? E questo è un film che incarna in pieno questo concetto, secondo me. Ora, non faccio spoiler perché questa è roba che potete vedere nel trailer proprio. È un film tutto basato sulla messa in scena, non è basato sulla storia. La storia è comprensibilissima veramente dai primi cinque minuti, sai cosa succederà. Perché è quello che vuoi che succeda. Il film si apre con questa ragazza che sta passando alcuni giorni nel deserto, in una casetta isolata, con il suo amante. E poco prima di partire, il giorno prima di partire, questi due ragazzi vengono raggiunti da due amici di lui con i quali lui andrà a caccia nel deserto. La ragazza sta per andare via, quindi questa è la situazione, no? Sembra tutto normale. Siamo stati insieme, tu torni in città, io mi faccio qualche giorno di caccia nel deserto con i miei amici. Ok, a posto. Se non fosse che mentre il fidanzato, non fidanzato, mentre l'amante di questa ragazza è via, uno dei due, amici, pensa bene di stuprarla. E l'altro pensa bene di guardare e non muovere un dito. Quindi succede questa cosa che ti fa salire un nervoso fin su nel cervello. Qui c'è il nervoso che ti gira, tipo pesci in un acquario. perché la scena è raccontata molto molto bene. La scena dello stupro è tanta roba. Cioè è orribile, ma per questo è tanta roba. Non credo che una scena di uno stupro che non ti lasci fastidio sia raccontata bene. Qui è raccontata molto molto bene con alcuni espedienti che abbiamo già visto utilizzare in Wonder Woman 1984. Cioè la scena di questa ragazza che viene stuprata, questo animale l'attacca a un vetro e mentre sta per penetrarla entra l'altro, l'altro cacciatore, li guarda e rimane lì senza fare niente mentre sta mangiando uno snack. E c'è questa inquadratura sulla bocca di questo tizio che rumina questo cioccolato con queste noccioline. È proprio una delle scene che ti trovi in Wonder Woman 1984, solo che in Wonder Woman ti trovi quella rappresentazione lì al centro commerciale. Nel senso, ogni uomo che viene inquadrato viene inquadrato così, come lo spettatore ignavo di uno stupro. Capite la differenza tra quella merda lì e questo film dove ti viene posto l'accento su una persona di merda perché sta facendo una cosa di merda. La sua colpa non è essere un uomo, la sua colpa è essere un uomo del cazzo. E non finiscono qui i problemi per questa ragazza perché quando torna il suo amante giustamente gli raccontano quello che è successo, questo all'inizio si incazza poi realizza che se rimandassero a casa la ragazza lei denuncierebbe sicuramente ne verrebbe fuori un caso. Lui verrebbe sicuramente chiamato a testimoniare se avrebbero problemi perché dovrebbe dire a sua moglie che stava con quella ragazza nel deserto i suoi amici passerebbero i guai perché l'hanno stuprata e quindi questo pensa di far fuori la ragazza di ucciderla la buttano giù da un burrone e questa rimane trafitta da un ramo d'albero da un tronco. Ok. Qui lo spettatore dice ma porca puttana ma questi tre stronzi chi gliela farà mai pagare? Sono nel deserto hanno fatto questa cosa a sta povera ragazza. Chi gliela farà mai pagare? Semplice la ragazza. E tu sai tu sai che non è possibile ma quando questo accade sei contento perché finalmente ottieni soddisfazione. l'ingiustizia a cui hai assistito è talmente brutta talmente grossa che non te ne frega niente se quello che guardi non ha un minimo di senso. Tu vuoi vedere la giustizia sommaria principalmente. Vuoi quella sommaria non vuoi la giustizia fatta di polizia che indaga non vuoi la giustizia fatta di galera vuoi la giustizia fatta di lame di schioppettate in faccia e di calci nel culo vuoi quella giustizia lì e il film te la dà. E' per questo che mi è piaciuto Revenge perché non pensa tanto al cosa vuole mostrarti ma pensa al cosa vorresti vedere tu. C'è un botto di sangue c'è un botto di violenza. Lei è molto brava a trasformarsi da una svampitella approfittatrice perché lei è così all'inizio e si trasforma in una persona che cresce in cinque minuti in cinque minuti becca in faccia tutta la vita che magari prima non aveva mai beccato questa voleva fare la subretta la sua unica preoccupazione era riuscire a sbattere il culo in faccia a un produttore e diventare famosa in un colpo solo questa si becca il lato peggiore della vita e cambia. Ma non è un cambiamento così graduale no no è proprio questa tizia risorge in effetti e quando risorge è un'altra persona è una persona più determinata è una persona che si difende ed è una persona che ti fa un favore cioè dissolve il tuo nervoso perché non stai incazzato nero all'inizio dissolve il tuo nervoso quindi non puoi fare a meno di ti fare per lei nonostante le sue azioni siano immensamente violenti immensamente sproporzionate a qualsiasi forma di giustizia universalmente riconosciuta come tale istituzionale tu sei dalla sua parte sempre bello molto molto interessante dovete però entrare nell'ottica che quello che succede è più metaforico che altro cioè se state lì a cercare il pelo dell'uovo nell'uovo anzi troverete tante incongruenze troverete tante cose che non funzionano lo troverete molto fantasy questo film e lo è ma non è quello il punto vedetelo proprio come vi ho detto io vedetelo nella maniera più viscerale possibile staccate il cervello ma non come nei film marvel che stacchi il cervello e guardi solo le lucine staccate il cervello nel senso che non dovete stare a pensare a questa storia come una storia vera non una storia credibile la storia è molto credibile ma non è raccontata in modo vero è raccontata in un altro modo tutti questi mezzi il sangue aettolitri l'esagerazione la super forza di questa ragazza che diventa veramente un mutante alla fine servono per rendere divertente qualcosa che non dovrebbe esserlo perché il film è divertente cioè il film ha anche una bella componente action se tu te lo guardi sei abbastanza appassionato poi le scene finali in questa bellissima baita nel deserto questa casetta perfetta tutta di design che diventa un organo interno da quant'è intrisa di sangue alla fine tutto questo è simbolico e si capisce benissimo perché ogni azione che avviene a schermo non dovrebbe avvenire è tutto molto molto simbolico ma l'ho trovato tanto interessante noi ci vediamo al prossimo video ragazzi spero che recuperiate questo revenge ben consci però del fatto che potrebbe non piacervi perché non tutti passerebbero facilmente sopra a queste esagerazioni a queste stilizzazioni nella messa in scena a me devo dire la verità non è non è dispiaciuta la cosa ma in realtà sarebbe bastato poco per rendere questa vicenda più plausibile certo la ragazza sarebbe dovuta diventare Rambo in cinque minuti ma è quello che succede anche qui ecco questa cosa viene giustificata dal fatto che lei praticamente è uno zombie quando rinasce però secondo me si poteva fare un po' meno così più divertente senza ombra di dubbio però il film è questo e noi ce lo teniamo volentieri così fatemi sapere se l'avete visto fatemi sapere se anche voi avete provato soddisfazione ciao 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 Grazie.